Ci siamo sempre chiesti Perché esistono auto belle, vestiti belli Perfino cucchiai, occhiali, penne belle o bellissime Perché il mondo della fotografia In particolare degli accessori Non sia costituito da oggetti belli Ma sempre e solo banali o al più piacevoli Noi della Foxwide vogliamo ideare e costruire Attrezzature per la fotografia performanti Ma anche belle Oggetti con cui si sta bene insieme Quindi non ci poniamo limiti Nell'uso dei materiali inconsueti Legno, Ergal Per noi hanno la stessa importanza Noi della Foxwide abbiamo voluto costruire Questa meravigliosa testa bilanciera Tutta la struttura Grazie all'impiego di Ergal Cuscinetti a sfera ad alta resistenza È particolarmente rigida e robusta Sopporta fino a 30 kg di peso Senza battere ciglio La gimbal head Foxwide È ricavata da un unico blocco di erba Il braccio basculante Supporta un'ampia piastra di attacco Tipo arca Swiss Che serra perfettamente il piede del vostro obiettivo Le manopole di bloccaggio Panoramica e di basculaggio Sono dimensionate per un serraggio efficace e comodo Trovandosi assieme sullo stesso lato In questo modo potete manovrarle liberamente Mentre con l'altra mano Vi potete dedicare ai comandi della macchina fotografica E all'inseguimento dell'azione Tutto questo permette di non perdere mai la concentrazione Nella nostra gimbal head abbiamo voluto utilizzare il legno Per rivestire il supporto principale Non si tratta solo di uno stupendo pezzo estetico Ma anche di un materiale nobile Che permette un contatto caldo con la testa bilanciera Inoltre il legno aumenta la dispersione delle micro vibrazioni Non c'è di meglio per l'utilizzo dei lunghi teleobiettivi In ambito naturalistico e sportivo Per i rivestimenti abbiamo voluto permettervi La scelta di 4 tipi diversi di legno pregiato Ogni legno ci ha ispirato il nome con cui identificare il modello Per i rivestimenti abbiamo voluto permettervi la scelta di 4 tipi diversi di legno pregiato Ogni legno ci ha ispirato il nome con cui identificare il modello Per esempio modello Honey Mountain in Afromosia Modello Red River in Cabreva Rossa Modello Black Mountain in Venge E infine modello Stone Moss in Cabreva Incenso Se è vero che gli alberi hanno un'anima Ora un po' di quell'anima sta con voi Seguiteci in questa esaltante avventura e non ve ne pentirete Abbiamo molte idee nel cassetto e intendiamo realizzarle tutte Iniziamo con questa meravigliosa Gimbalet Un attrezzo pensato per la fotografia naturalistica e sportiva Che permette veloci basculaggi, inseguimenti perfetti, cambi di prospettiva immediati E tutto nella massima leggerezza e perfezione dei movimenti Grazie Grazie